Meno disuguaglianza, più attenzione al sociale, apertura alle nuove tecnologie e all'innovazione con un occhio di riguardo al rispetto dell'ambiente. Sono queste le sfide della cooperazione in Romagna, delineate dal convegno che si è tenuto lunedì alla Fiera di Cesena. Lega Coop e Federcop Romagna hanno dato appuntamento a imprenditoria e politica per guardare al futuro dopo i due anni difficili della pandemia. Presidente Mazzotti, nel titolo di questo convegno si cita una frase alle porte di un mondo nuovo. Qual è questo mondo nuovo al quale si affaccia e si deve affacciare il sistema della cooperazione? È un mondo fatto di maggiori uguaglianze sociali, prima di tutto, maggiore opportunità per i giovani e per le donne. È un mondo nel quale viviamo con una situazione climatica risanata, con una possibilità di crescita e di sviluppo sostenibile per tutti. Sembrano rivendicazioni o enunciazioni teoriche, in realtà sono alla portata se noi riusciamo a cogliere le opportunità che in questo momento si aprono e se riusciamo a fare in modo che nel nostro paese e nel mondo ci sia più cooperazione. Qual è lo stato di salute del sistema cooperativo romagnolo? Gli anni della pandemia sono stati anni difficili? Sono stati anni difficili che abbiamo superato con una grande forza resiliente come tipica dei cooperatori. Abbiamo settori che sono cresciuti e settori che sono stati fortemente in difficoltà come quello dello spettacolo, della ristorazione, in parte anche delle sociali. Siamo però riusciti a risalire la china, abbiamo dei dati di bilancio molto incoraggianti e positivi e stiamo anche noi registrando quella crescita economica importante che il paese registra in questo momento. Ci sono molte incertezze a cui dobbiamo fare attenzione, che sono legate in questo momento in particolare all'incremento dei costi delle materie prime che rischia di generare un blocco della crescita, alla difficoltà a far incontrare il mercato del lavoro, spesso in molti settori, tra domande e offerte, dove ci troviamo ad esempio con imprese che sono in difficoltà a reperire mano d'opera qualificata e ci sono anche certe difficoltà dal punto di vista finanziario che ancora purtroppo permangono in alcuni settori, in tutte le cooperative, rispetto alle quali anche la disponibilità di risorse annunciata non sempre si manifesta nei termini e nei modi giusti per far crescere gli investimenti delle imprese. Stiamo reagendo, stiamo lavorando per rafforzare la nostra rete, non sarà compito solo del pubblico quello di utilizzare bene le risorse del PNRR, abbiamo un ruolo anche noi come forze sociali, come imprese, dobbiamo raccogliere queste sfide, aumentare la nostra capacità di progettazione, di visione, come abbiamo detto poco fa, ma è la nostra capacità anche di fare reti comune, costruire delle filiere cooperative che sono in grado appunto di intercettare questa possibilità che in questo momento in maniera unica ci si prospetta. Pazzavolta, innanzitutto qual è lo stato di salute del sistema cooperativo in Romagna? Gli anni della pandemia chiaramente sono stati anni difficili. Sì, abbiamo attraversato una fase molto difficile, però direi che la cooperazione comprensivamente li ha attraversati abbastanza bene, ricordavo prima come diversi settori della cooperazione siano stati comunque aperti durante la fase di pandemia e hanno garantito servizio ai cittadini e appoggio e sostegno alle istituzioni, per cui direi assolutamente un ruolo molto importante. Adesso usciamo comunque da una fase complicata, vediamo che vi è una ripresa economica in atto forte e ci aspettiamo di intercettare e interpretarla al meglio sviluppando anche nuovi settori cooperativi. Lei nel suo discorso ha dato anche un messaggio di speranza, ha parlato di quella che sta per arrivare come una stagione irripetibile per opportunità. Quindi quali sono le sfide principali da affrontare nel futuro? Direi che le sfide principali per quanto riguarda il Paese sono quelle di mettere a terra nel modo più rapido e più efficace possibile i finanziamenti che verranno dal PNRR e dagli altri interventi comunitari. Per quanto riguarda la cooperazione è sicuramente quella da un lato di consolidare i settori già esistenti, intercettando questi finanziamenti, ma dall'altro anche sviluppare nuovi settori, nuove aree di attività. Vi sono bisogni che sono espresse dalla società e che ancora non trovano accoglienza, non trovano riferimenti. Vi sono diversi ambiti di azione nelle quali possiamo muoverci come cooperazione. Quindi da questo punto di vista è una stagione irripetibile perché metterà insieme uno sviluppo economico, una crescita del PIL molto importante, ma dall'altra aprirà ancora più contraddizioni da un punto di vista sociale, politico e anche dell'attenzione delle persone. Quindi su questo la cooperazione potrà fare molto. Oggi si è parlato anche del delicato e attualissimo tema del divario di genere. Lei ha presentato una sorta di vademecum su questo problema. Di che cosa si tratta? È esattamente un vademecum che abbiamo fatto innanzitutto per Lega Copromagna, ma da diffondere anche nelle nostre cooperative e il cui tema sostanzialmente è come parlare e come affrontare il tema delle politiche di genere e del linguaggio di genere all'interno delle aziende. Abbiamo deciso di fare questo come primo gesto, ma poi vogliamo allargare il ragionamento a tutte le differenze all'interno dell'azienda perché ce n'è bisogno, perché molto spesso alcune azioni e alcuni modi di dire che escono spesso all'interno delle aziende sono del tutto inconsapevoli e notarli e rendersene conto è il primo passo per poter affrontare un cambiamento che è necessario e che porterebbe vantaggi al benessere all'interno delle imprese, ma anche vantaggi in termini di posti di lavoro e di produttività. Uno degli esempi, l'uso dei termini al femminile. Si trova spesso una resistenza da questo punto di vista forse più per abitudine, per cattiva abitudine. Sì, soprattutto nelle donne si trova questa resistenza perché c'è l'idea che il termine maschile conferisca un maggiore prestigio, per esempio direttore invece che direttrice. In realtà è un retaggio culturale che dobbiamo in qualche modo superare, ma tanti altri che sono nascosti diciamo nelle modalità benevole con cui parliamo in azienda, per esempio il nostro uomo migliore o il classico esempio la donna con le palle e quant'altro servono perché c'è un riferimento maschile di eccellenza. Dobbiamo riuscire a scardinare questo tema, introdurre una modalità di linguaggio diverso e forse supereremo anche la resistenza delle donne ad essere nominate con il termine giusto direttrice, assessora, sindaca e la presidente e quant'altro. Presidente Bonazzini, una delle prossime sfide italiane, così come dell'Emilia Romagna, lei ha detto, sarà quella di gestire la crescita, che è un problema che insomma in Italia non si aveva da molto tempo. Il sistema delle cooperative può essere utile per questo? Assolutamente, è un comparto che in questi anni quello cooperativo, nella moltiplicità delle proprie imprese, in diversi settori ovviamente presente, ha saputo dimostrare più vitalità di quello che qualcuno gli assegnava. Nonostante le varie crisi, le due recessioni, ha aumentato gli occupati, ha aumentato persino il numero di imprese e soprattutto su alcuni filoni può garantire, ho citato qui come esempio quello del privato cooperativo, del privato sociale, della cooperazione sociale, su tutto il campo del welfare, dall'infanzia alle persone anziane, passando per la disabilità o i servizi socioassistenziali, un'opportunità che è quella di gestire, ovviamente garantendo con l'accreditamento la qualità dei servizi che si erogano, però l'aumento della quantità nei nostri territori di servizi per le persone perché di questo c'è bisogno. Così come dall'altra parte sul campo agroalimentare, agroindustriale, quello della produzione e lavoro, dei servizi e dell'industria, oppure dei pubblici esercizi o della grande distribuzione, io ci vedo un'opportunità perché l'Italia ha davvero possibilità di crescita mai conosciuta negli ultimi 20-30 anni, però come giustamente Panzavolta richiamava, bisogna A. da un lato sburocratizzare e semplificare le norme, B. non sbagliare i progetti e gli investimenti perché è un'occasione storica che non ci sarà data in futuro. Venerdì entra in vigore il Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. L'Emilia Romagna è pronta ad affrontare questo nuovo passaggio? Molti governatori delle regioni del nord hanno espresso delle perplessità, ci sono delle difficoltà in questo momento. Ma guardi, bisogna affidarsi agli esperti, a chi ci dice per quanto tempo dovrà durare, così come mi pare che il governo abbia preso una decisione molto netta e molto chiara e io esprimo un giudizio molto positivo sul lavoro che il governo ha fatto in questi mesi. grazie ai vaccini noi stiamo per raggiungere tra poche settimane l'obiettivo del 90% di persone vaccinate quando ci eravamo dati l'80% in questo periodo e quindi questo aumento dei vaccini sta dimostrando che nonostante la riapertura delle scuole per ora il contenimento della curva molto bassa dei contagi e di un crollo, cosa la principale e la più importante, dei ricoverati gravi e ancora più importante dei decessi permette di tenere a bada la pandemia che ancora c'è e il virus ancora circola e ha permesso di riaprire pressoché tutte le attività economiche che noi nessuna delle quali insieme a quelle sportive, culturali, associative vorremmo più richiudere proprio per cogliere questa opportunità che il paese riparta. Il Green Pass è uno strumento per permettere alle persone di tutelare se stessi e tutelare gli altri e io invito chi ha ancora dei dubbi, ha paura rispetto alle vaccinazioni, ovviamente una minoranza, di vaccinarsi perché non so altro che debba succedere in questo paese dopo oltre 130.000 morti, oltre 13.000 in questa regione per non comprendere che abbiamo bisogno di tornare a respirare la vita precedente. Grazie a tutti.